Chiesa che nasci dalla croce, dal fianco aperto del Signore, dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità. Chiesa che vivi nella Pasqua, sei dallo Spirito redenta, vivificata dall'amore, resa feconda nella carità. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. Nella sua luce noi cammineremo, chiesa redenta dal suo amore. Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza, con la parola del Dio vivo, in mezzo al mondo, nella verità. Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia, stile per i regali, gente santa, sei per il mondo, segno di unità. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. Nella sua luce noi cammineremo, chiesa redenta dal suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore, la pace e la gioia del Signore siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Benvenuti in chiesa, carissimi. Stasera celebriamo San Sebastiano, il giorno proprio del martirio, era sabato, giorno 20. Per voi era una giornata più indicata. Questa sera, quindi liturgicamente, era un giorno libero, abbiamo potuto far memoria di San Sebastiano questa sera. E quindi la vostra festa, parliamo della polizia locale. Un saluto al primo cittadino, l'avvocato Marco Lenoci, da cui dipende il corpo della polizia locale. Poi c'è il comandante, il centrone, e poi tutte le autorità, per non sbagliare perché non conosco i nomi e cognomi di tutti, e precisamente quindi tanti amici che sono qui, sia dell'amministrazione comunale, anche delle forze dell'ordine, che vivono in questo momento di comunione anche con la polizia locale. In qualche modo San Sebastiano è un po' il patrono di tutti, perché lui era un militare. Un saluto anche a quanti ci seguono in diretta, da casa, su queste mittende televisive e telemail, soprattutto gli ammalati, gli anziani, le persone sole e tutti coloro che soffrono. Ricordiamo nella Messa anche i defundi di questo giorno, Vito e Angela e i suoi familiari, la famiglia dei Uri e l'Erario. che il Signore li accolga nella sua pace e insieme li accolgiamo, che sentiamo al Signore anche i nostri familiari, i defunti. Adesso la preghiera a San Sebastiano, prima di continuare la celebrazione. Preghiera a San Sebastiano O glorioso martire San Sebastiano, a te eleviamo, fiduciosi e reverenti, il pensiero e la nostra preghiera. Tu, nostro Patrono, aiutaci a sostenere sereni la prova, le malattie e tutte le avversità di questa vita, come sopportasti con eroismo le sofferenze del martirio. Nella vigilanza accompagnaci, nel nostro dire consigliaci, nelle nostre azioni sostienici, ma soprattutto rafforzaci nella nostra fede nel Signore. fa che sentiamo ogni giorno l'eco della Tua voce nel dovere che ci guida nell'osservanza dei comandamenti di Dio e delle patrie e leggi. Amen. San Sebastiano prega per noi. Per celebrare degnamente i divini misteri, chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. gloria, gloria, in eccelsis Deo. gloria, 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 in eccelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e benza Signore Dio nel cielo, Dio Padre onnipotente Gloria, gloria in eccelsi Deo Gloria, gloria in eccelsi Deo Signore, figli unigenito Gesù Cristo Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Gloria, gloria in eccelsi Deo Gloria, gloria in eccelsi Deo Signore Dio, perché tu solo il Santo Tu solo il Signore Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo E la gloria di Dio Padre Amin Gloria, gloria in eccelsi Deo Gloria, gloria in eccelsi Deo Preghiamo. Donaci, oh Signore, lo spirito di fortezza, perché sostenuti dal glorioso esempio del tuo martire, San Sebastiano, impariamo ad obbedire a te piuttosto che agli uomini, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dove stati? Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo Carissimi, se dovete soffrire per la giustizia, beati voi, non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo, se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato Insieme Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua luode Io mi glorio nel Signore, io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino Oggi ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni paura mi ha liberato Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato L'angelo del Signore si accampa, attorno a quelli che lo temono e li libera Gustate, vedete, com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia Ho cercato il Signore, da ogni paura mi ha liberato Ci mettiamo in piedi Alleluia Sia benedetto Dio, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione Egli ci consola in ogni nostra tribolazione Alleluia 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 San Sebastiano è una figura veramente luminosa Alleluia 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 E Sebastiano si era sempre Alleluia 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 C'è sempre qualcuno Delatore Alleluia 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 Io ti sono stato sempre fedele, ho sempre svolto bene il mio servizio, non ti ho mai tradito, sono stato un suddito ubbidiente, però il mio Maestro Gesù Cristo mi dice, è scritto nel Vangelo, di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. L'imperatore a questo punto si adirò e lo condannò a morte, lo fece legare a un palo, come vediamo anche lì nella foto, e incaricò alcuni con le frecce di ucciderlo. Quindi, in questo modo, Sebastiano compì il martirio ed è sepolto lì, ad Catacumbas, sulla via Appia a Roma, sotto le catacombe di San Sebastiano, visitabili da tante persone che vanno. Quindi veramente avete come protettore un uomo coraggioso, un uomo degno di questo nome, fedele alle autorità, ma soprattutto fedele a Dio. Non ha mai tradito Dio e non ha mai tradito nemmeno l'imperatore, però a voi cristiani non è lecito esistere, voi dovete essere cancellati dalla faccia della terra. E quindi l'imperatore uccise anche questo suo amico e lui con coraggio ha affrontato il martirio, un uomo coraggioso, perché non poteva rinnegare il suo Signore, la sua fede. Ecco, la fedeltà di San Sebastiano ha suo dovere, la fedeltà a Cristo soprattutto, deve ispirare anche voi carissimi amici che fate parte del corpo della polizia locale, anche voi affrontate fatiche, difficoltà, a volte anche moltificazioni. Voi operate nella città, anche tra tanti pericoli, dovete chiedere al Signore la forza, il coraggio di non scendere mai a compromessi, di essere fedeli al servizio che rendete. San Sebastiano è stato un testimone, la parola martire significa testimone, fino al martirio, è la testimonianza del cristiano che spinge fino all'eroismo. E se qualcuno di voi è chiamato anche all'eroismo, è perché no, dovete servire fino a quel punto, fino al dono della vita, perché non c'è amore più grande, ha detto Gesù, di chi dona la vita per amore, di chi dona la vita per gli altri. Voi siete cittadini, italiani, servitori dello Stato, ma lo Stato è una parola astratta, poi in concreto sono i cittadini, tutti noi formiamo lo Stato, quindi voi siete i servitori degli altri, dei fratelli, dei cittadini della città. Siete chiamati ad applicare le leggi, nonostante la divisa, che a volte può creare un distacco, voi dovete comunque conservare la vostra umanità, è l'umanità che ci deve caratterizzare. Siete uomini, quasi tutti siete anche cristiani, il fatto che è stato in chiesa, dice che siete cristiani, seguaci di Cristo, come Sebastiano. E dovete riconoscere negli altri, nei cittadini che voi servite, dei fratelli, e anche dei cristiani, e trattare gli altri come fratelli. Dice, se fossi io al posto suo, come vorrei essere trattato. Questo è sempre il piccolo ragionamento che almeno io, anche nel mio servizio sacerdotale, anche noi siamo accontati con le persone. Tante volte, dice, se fossi io al posto di questa persona, come vorrei essere accolto, trattato. Allora, cambiano tante prospettive, tanti modi, tanti atteggiamenti. Immedesimarci nell'altro, nei problemi dell'altro, pur applicando le leggi, ma c'è modo e modo, no? Ogni mestiere, no? C'è modo e modo di farlo. Questo vale per gli infermieri, vale per i medici, vale per, no? C'è modo e modo di fare il medico, modo e modo di fare l'infermiere, modo e modo di fare il prete, c'è modo e modo anche di fare il carabiniero, il vigio urbano, o dell'esercito, o dell'amministratore, la croce rossa, no? Ognuno di noi. Allora, il servizio che il cristiano rende, proprio perché è ispirato al Vangelo, è qualitativamente diverso. C'è qualcosa in più, il cristiano deve dare qualcosa in più. Tra voi e la città c'è un rapporto molto stretto e siete chiamati a dare anche proprio questa testimonianza di amore verso la città e verso i cittadini, chiaramente. Voi dovete prendervi cura della città in tutte le sue dimensioni, gli ambienti, l'ecologia, il paesaggio, tutti gli aspetti della città. Siete i custodi, possiamo dire, dell'ordine pubblico, no? Dovete aiutare che tutto procede in modo ordinato. No, la vita della città proceda bene. Assicurare una pacifica convivenza tra gli uomini. È una collaborazione che è necessaria. Aiutate anche l'amministrazione comunale a fare della nostra città una comunità di persone, di belle persone che si rispettano, di persone civili. Vorrei dire quasi a formare una famiglia. Qui non è Milano, non è New York, no? È a qua vive delle fonti, dove ci conosciamo quasi tutti. Non siamo anche 20.000 abitanti, no? Quindi si può creare questo clima di famiglia, un clima familiare. E riuscirete a creare questo clima di famiglia nella città, anche nella misura in cui anche tra di voi riuscite ad avere questo clima familiare, no? Molto bello, no? Che ci riuniamo insieme a pregare, che, no? Anche andare al bar insieme, anche, che ne so, una cena. Questo aiuta, crea questo clima di unità, di armonia, questo clima bello, che io ve lo auguro veramente con tutto il cuore. Perché anche quando nell'ufficio, nel, che ne so, per i carabinieri, nella caserma, per il sindaco, nella sua, nella sala consigliare, si crea un clima di rispetto, di amore, di fiducia, di collaborazione, un clima di famiglia, si va anche più volentieri, di lavorare, no? E si rende anche di più. Terribile quando si creano gli steccati, no? Le contrapposizioni, che possono essere ideologiche, o che ne so, di qualunque altra natura, che rende poi faticoso il servizio, la collaborazione, no? Peggio ancora, se nascono i conflitti, si comincia a fare la guerra, no? non si vive più. Ma questo è dovunque, dovunque. A volte anche nelle parrocchie. Se non c'è questa accoglienza reciproca, se non c'è questo amore, questo rispetto, questo perdono anche, tante volte può succedere, anche nel momento che uno dice una parola fuori posto, che non so, alza la voce, però bisogna arrivare poi subito al chiarimento, al perdono, di darsi la mano e a collaborare di nuovo insieme, no? E' la vita, e' la vita. Quindi il Vangelo ci aiuta a vivere, perché Gesù ci chiede di amarci, di perdonarci, di accoglierci, di camminare nell'amore ed è l'augurio più bello che oggi voglio farvi, no? Perché anche il vostro servizio sia veramente degno di questo nome. Gesù ci ha insegnato non a comandare, ma a servire, no? E ha detto che nella Chiesa e nel mondo, dovunque, il cristiano è un servo, uno che deve servire con generosità, con amore, no? Come il maestro fino a dare la vita. Sebastiano è diventato santo proprio perché ha seguito l'esempio del maestro di Cristo. E io auguro a tutti voi di diventare come San Sebastiano, no? non di essere uccisi, assolutamente, no? Questo, Dio ci liberi, ma di diventare santi, testimoni di amore, gioiosi testimoni, no? gioiosi, perché anche qui il servizio l'ha fatto con gioia, no? Non a fatica, con gioia. C'è da fare la cosa, comandare, vado con gioia, a servire, con amore, no? Non mugugnando, dicendo parole sotto la lingua, no? Ciò non poteva andare un altro. Anche nelle missioni più difficili dobbiamo, ecco, avere il coraggio di San Sebastiano e di svolgerle bene. Auguri allora, auguri per questa sera, auguri per la vostra vita, auguri anche alle vostre famiglie, no? E a tutti voi qui presenti, che San Sebastiano possa benedire voi e benedire anche la nostra città, perché San Sebastiano, se non lo sapete, è il secondo patrono di Acquaviva, quindi San Deustacchio è il patrono principale, lui è il patrono secondario, nei tempi della peste, lui è anche il patrono della peste, contro la peste, Acquaviva lo nominò suo patrono. Bene, che San Sebastiano ci benedica e ci accompagna nel nostro cammino. Amen. Confortati dalla testimonianza di San Sebastiano, trafitto nel corpo per la sua santità di vita, apriamo il cuore alla fiducia filiale verso Dio, datore di ogni dono perfetto e diciamo Donaci, oh Padre, il coraggio di testimoniarti. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimoniarti. San Sebastiano, ha sempre pregato per la sicurezza dell'impero. Padre, Padre Santo, in questo tempo di insicurezza fa che le scelte politiche possano dare fiducia e coraggio ai giovani che guardano al futuro della loro vita, preghiamo. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimonialti. San Sebastiano, ha affrontato con coraggio il martirio. Padre Santo, sostieni con il tuo conforto tutti coloro che si trovano in momenti di sofferenza fisica e spirituale. Preghiamo. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimoniarti. Padre Santo, attraverso l'esempio valoroso di San Sebastiano martire, dona la forza di resistere alle contraddizioni presenti nel mondo d'oggi. Preghiamo. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimonialti. San Sebastiano, appuntato alla santità con la sua coerenza di vita. Padre Santo, fa che ogni giorno sia per noi un prodigio della tua bontà e illumina il nostro cammino di santità nella vita concreta. Preghiamo. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimonialti. Ti preghiamo, Signore, per il Vescovo eletto Giuseppe, che hai voluto donare alla nostra diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e che ci prepariamo ad accogliere con gioia e fondi su di Lui il tuo Santo Spirito affinché possa amare e guidare la nostra Chiesa con cuore di Padre, ascoltare e comprendere l'attese e i bisogni di tutti, pronto ad offrire ogni giorno la sua vita per il bene del greggio che gli è stato affidato. fa che ciascuno di noi riconoscendo in Lui l'immagine di Cristo buon pastore obbedisca con gioia e piena fiducia agli orientamenti pastoriali che Tu vorrai ispirargli. Preghiamo. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimonialti. Manda, Signore, e Apostoli Santi nella Tua Chiesa. Ti preghiamo anche per i nostri cari defunti questa messa per Vito, Angela e familiari e anche per i vigi urbani defunti, per i nostri parenti perché accompagnati dalla nostra preghiera siano accolti nella casa del Padre preghiamo. Donaci, oh Padre, il coraggio di testimoniare. Oh Signore, che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la Tua Chiesa per renderla santa e immacolata. Donaci la grazia di seguirti sempre e fa che per intercessione di San Sebastiano sulle orme di Cristo possiamo annunziare la Tua immensa misericordia per Cristo nostro Signore. Amo. Seduti, cantiamo mentre si portano i doni all'altare. Canto numero 39 Tu ci inviti alla Tua mensa e ci doni il pane e il vino col Tuo corpo e col Tuo sangue Tu ti offri il vero amore vita nuova abbiamo in Te Signore la salvezza è solo in Te Signore Signore e al banchetto del Tuo regno con i santi noi verremo sull'altare tutti i muri come agnello senza colpa con pastore e ci raduni e di mori in mezzo a noi vita nuova abbiamo in Te Signore la salvezza è solo in Te Signore che al banchetto del Tuo regno con i santi noi vedremo tu ci inviti alla Tua mensa e ci doni il pane e il vino col Tuo corpo e col Tuo sangue tu ti offri per amore vita nuova abbiamo in Te Signore la salvezza è solo in Te Signore con i santi e ci vedremo sull'altare tutti i muri come agnello senza colpa con pastore e ci raduni e ci raduni e di mori in mezzo a noi vita nuova abbiamo in Te Signore la salvezza la salvezza è solo in Te Signore e al banchetto del Tuo regno con i santi con i santi verremo con i santi noi verremo pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo per festeggiare San Sebastiano possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente il Signore riceva dagli Tuoi mani questo sacrificio all'ode gloria del Suu nome per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa Padre Clementissimo effondi su queste offerte la Tua benedizione e confermacine alla fede che San Sebastiano testimoniò versando il Suo Sangue per Cristo nostro Signore Amén il Signore sia con voi e con il Tuo Spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore rendiamo grazie al Signore nostro Dio e cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie sempre ed in ogni luogo a Te Signore Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno il Sangue versato dal Santo Martire Sebastiano a imitazione di Cristo e per la gloria del Tuo Onore manifesta i Tuoi prodigi o Padre che riveli nei deboli la Tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro e noi con tutti gli angeli del cielo a Te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la Tua gloria Santo 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 il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria osana 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 nell'alto dei cieli osana 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 nell'alto dei cieli me ne è detto colui che viene nel nome del Signore osana 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 nell'alto dei cieli osana 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 nell'alto dei cieli santo 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 veramente santo sei Tuo Padre fonte di ogni santità ti preghiamo santifica questi doni con la rugiata del Tuo Spirito perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo Egli consegnandosi volontariamente alla passione prese il pane rese grazie lo spezzò lo diede ai Suoi discepoli e disse prendete prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi mio Signore mio Signore e mio Dio questo è e il mio Signore allo stesso modo dopo aver cenato prese il calice di nuovo ti rese grazie lo diede ai Suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me Signore dona al mondo la pace mistero della fede annunciamo la tua morte Signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta nell'attesa della tua venuta celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo Padre il pane della vita ed il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo ricordati Padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco il nostro Vescovo Giovanni i presbiteri e i diaconi ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Vito di Angela e dei suoi familiari defunti e nella tua misericordia di tutti di tutti i defunti a mettere alla luce del tuo volto di noi tutti abbi misericordia donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio San Giuseppe suo Sposo gli Apostoli San Sebastiano San Domenico San Francesco Rassisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria Per Cristo con Cristo ed in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli il Signore ci ha donato il suo Spirito e lo Spirito Santo è Dio amore la potenza dell'amore di Dio in noi che ci spinge ad amare di più il Signore ma anche ad amarci di più tra di noi preghiamo per l'unità della Chiesa per la pace del mondo e per l'unità anche tra di noi con fede diciamo insieme Padre nostro che sei nel cielo sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così terra dacci oggi il nostro padre e rimetti a noi i nostri veri come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione ma liberaci dal male liberaci o Signore da tutti i mali soprattutto dalle guerre e dalle divisioni concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo Tuo è il regno Tu hai la potenza e la gloria dei secoli Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà Tu che vivi e regni nei secoli nei secoli la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace con il tuo spirito agnello di Dio che con gli peccati del mondo ha limitato di noi agnello di Dio che con gli peccati del mondo ha limitato di noi agnello di Dio ecco colui che toglie i peccati del mondo beati gli invitati alla cena dell'agnello o Signore non sono degna di partecipare alla tua menza ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio il corpo e il sangue di Cristo il corpo e il sangue di Cristo canto numero 43 pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini nutrimento che sostiene il mondo dono splendido di grazia tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che adamo non poter toccare ora in Cristo a noi donato pane della vita sangue di salvezza vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo a te padre la lote che donaste redentore e al santo spirito di vita sia per sempre onore e gloria pane della vita sangue di salvezza vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo preghiera del vigilo urbano signore Dio tu che vigili il corso degli astri ed ogni cosa disponi con suavità e con fermezza nell'ordine della tua provvidenza veglia su di noi votati al servizio dei nostri fratelli tu di ci donasti nella vita terrena l'esempio luminoso di fedele obbedienza alle leggi di Cesare di amorosa sollecitudine verso chi è debole di infinito amore verso chi erra di umile e faticosa operosità nel quotidiano lavoro Dio fatto uomo rendici degni di te affinché la nostra giornata terrena sia degna anch'essa della missione da noi confidata concedici per intercessione di Maria madre immacolata di essere pronti a soccorrere chi ha bisogno di noi esatti nel dovere amanti della legge fraterni con chi sbaglia forti nell'intemperie decisi contro chi offende la morale la religione e la legge così aiutando gli uomini nella loro dura quotidiana fatica saremo suscitatori di concordia e di pace nella turbinosa vita che corre nel mondo e porteremo in esso l'eco glorioso dell'armonia dei cieli così sia vorrei approfittare se posso Don Peppino intanzitutto ringraziare la parrocchia di San Domenico sempre disponibile e chiaramente la sua persona vorrei ringraziare i cittadini presenti i cittadini che sono a casa e anche il primo cittadino l'avvocato Marco Lenoci il sindaco il vice sindaco il presidente del consiglio gli assessori che si sono appena allontanati i barbieri e spinelli il generale tricarico il colonnello Ventura il colonnello Marasco la croce rossa Overland la fonte tutti i colleghi in pensione che ci hanno onorato della loro visita i parenti familiari e niente grazie di aver partecipato a questa nostra festa spero che ci vediamo l'anno prossimo grazie preghiamo rinnovati dai santi misteri ti preghiamo Signore fa che imitando l'amirabile costanza di San Sebastiano otteniamo il premio eterno promesso a chi soffre a causa del tuo nome per Cristo nostro Signore amén rinnovo anch'io il mio augurio ecco di una buona vita una buona vita cristiana e anche di una buona vita professionale di un buon servizio ai fratelli e alla città di Acquaviva e San Sebastiano adesso ci benedica ottengano al Signore una pioggia di benedizioni su tutti noi sulle nostre istituzioni e sulla nostra città il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo amén testimoniamo il Signore con la nostra vita andiamo in pace e rendiamo grazie grazie ti esalto Dio mio Re canterò in eterno a te io voglio lodarti Signore e benedirti alleluia alleluia a te a te e benedirti a te e benedirti Grazie.